Ci racconti un attimo come sta la tua squadra? Beh, abbiamo qualche problema, ce l'abbiamo, però come sempre, insomma, avremo altri giocatori pronti, come detto prima di inizio, abbiamo nutriti con tre partite importanti e è difficile giocare tre partite a 90 minuti sempre, quindi devo avere la disponibilità dei ragazzi, come sempre è stata, come è stato gli anni scorsi, ho sempre cambiato, quando c'erano queste partite abbiamo 5-6 giocatori, quindi questo deve essere lo spirito che ha dimostrato la squadra comunque sempre anche in queste prime giornate, quindi per una siamo tutti pronti, domani pronti per questa, poi non abbiamo l'intento di recuperare poco, abbiamo già un'altra partita importantissima a Valese e poi chiudiamo l'ultima. Poi giocheremo di venerdì ancora a palo, quindi metto quattro partite in due settimane, bisogna essere pronti tutti e abbiamo bisogno di recuperare anche giocatori che stanno in gioco poco. Bugino lo scalpita, mister, insomma... Eh, va, io lo vedo, lo vedo bello carico, quindi il custode gli darà un occhio di riguardo. Lo fai giocato? Non lo so, vediamo, adesso... La tina è aperta? Sì, quando mettere in opposto il campo guarderà un riguardo un po' tanto. Grazie. Grazie.